Conto alla rovescia per la Glacier Trail in programma domenica a Lanzada. Chiuse oggi le iscrizioni online, ma la sportiva Lanzada che promuove l'evento ha deciso di accettare le richieste per gli ultimi ritardatari, anche domani dalle 16 alle 18, negli spazi di ritiro dei pettorali vicini al municipio, oppure domenica in partenza dalle 7.30. L'appuntamento è per domenica a Campomoro, sede di partenza e di arrivo della gara sulle due distanze previste. La 21 km con 1200 metri di dislivello vedrà il via degli atleti alle 9.15, mentre la 12 km con un dislivello di 580 metri partirà alle 9.30. La Glacier Trail viene proposta per il secondo anno consecutivo ed è anche seconda tappa del Grand Prix delle Valle di Sondrio che raccoglie alcune delle più spettacolari competizioni di corsa in montagna organizzate in provincia di Sondrio.